Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Una Jeep Compass con a bordo una famiglia, marito, moglie e bimbo, residente a Front, diretta a Rivarolo, ha visto il fumo subito dopo, seguito da un principio d'incendio, uscire dal cofano. A quel punto il conducente ha fermato la macchina, ha preso il bimbo legato sul seggiorino nel sedile posteriore e sono usciti tutti. Le fiamme hanno avvolto la vettura. Allertati i soccorsi, sul posto sono prontamente intervenuti le agenti di polizia locale di Rivarolo e i vigili del fuoco di Ivrea, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo che è andato completamente distrutto. L'alto è di un'altra metà, ma l'altra metà è un'altra metà. Non è alta, scusa. Non è alta. Fai adesso è meglio, è vero, effettivamente avendo le ruote giù hanno fatto il ghiaccio. L'altro metà è un po' più alto. Non è alta. Non è alta, scusa. Sì, è alta. Sì, è alta. Sì, è alta. Sì, è alta. Vedete, ovviamente avendo le ruote giù. Eh. Sì, è alta. Sì, è alta. Sì, è alta. Grazie a tutti